Allora Plankton, ho trovato tutti i tuoi cagnolini Grazie Detto ciò mi sa che nel livello di Globeword io ho mancato la spatola d'oro Allora Scassandra Ma Scassandra Ma Non c'è mai posto nessun vero. Ma... ...che non puoi fare attitudine? Si può permettere! Hai un'idea di quanto riguarda la potenza, una volta che abbia abbastanza di gelo? Silenzione! Sono ora la Queen del Oceano e con la potenza del gelo Cosmic, farò riuscire le sceglie in modo da i miei wishes! Spongebob, ho tolerato i tuoi sottotitoli per anni fa! Dio mio! E' il momento giusto per arrabbiarsi questo, vero? Cassandra! Mafia rabbioso! Tu hai la perfetta attitudine per essere il mio nuovo petto! Dio mio! Ma povero Squiddy! Che a me fare ora? Ah ok, battaglia doppia! Ma la battaglia come si... si struttura? Ah ok, perfetto! in questo solito modo allora! Grazie! Forza, forza, forza! Ancora uno! Prenditela! Ti sta bene, scema! Va bene, battaglia semplice in sostanza! Ma in realtà è... Cioè, oh! A me sembra più semplice di altre battaglie che abbiamo fatto! Poi... Magari in realtà adesso all'ultima fase diventa ancora più difficile! Sai cosa mi ricorda questa parte qua con i cerchi? La fase finale con Nettuno nel gioco del film! Quando anche lì c'erano i cerchi di energia che dovevano evitare lì sì che era difficile! Lì sì che avevamo avuto difficoltà! Scappa, scappa, scappa! Ok, me ne serve! Ancora uno almeno! Beccatela! Eh, lo so che fa male! Mancherebbe anche che non lo facesse! Oh ca... Mi sono distratto a guardare... Mi sono distratto a guardare Squiddy e ho preso... Stavo guardando che c'ha i tentacoli sotto enormi ma quelli sopra... Le fraccine sono minute! Oh là! Questa è veloce! Ah, Squiddy non vedeva l'ora di... Di menarci! Qualsiasi motivo fosse! Squiddy medusa! Ok, questa... Me la sono cercata io! Quel colpo lì me lo sono andato proprio a cercare! Grazie! Arrivo, arrivo, arrivo! Prendilo! Ok! Preso! Preso! Beccatelo, scassandra! Vittoria! Nove ore per finire il gioco, eh! Schiva tentacoli, scusami! Non farti col piede dai tentacoli! Abbastanza semplice in realtà, eh! Tornano tutti normali ora! Oh Squidward! Sono molto felice che sei tornato al normale! Eh! Che succede? Se la mia pelle si fa come gelo! Eh! Eh! E bravo Nettuno! Ho scusato! Oh gelatina passata! Fai tornare tutto com'era Quanto ci fai? Puff New Game Plus A parte che il desiderio era per SpongeBob Essendo fatto da Renett 1 Credo che bastava che Parlasse solo SpongeBob per questo Quindi basta Pure E quindi ora è tornato tutto come era prima Hai salvato Bikini Bottom Grazie a te è tornato alla normalità Oh no La storia è terminata ma c'è ancora molto da fare Tutti i costumi, tutti i premi, nuovi boss Esplorare i mondi dei desideri Completa tutte le sfide, controllasi abitanti Hanno nuovi bisogni, di nuovo bisogno di te Ma nuovi boss in che senso? Dentro le zone? Vabbè a noi ci importava della storia onestamente Il resto è tutto plus Allora sarò un pelo onesto Ma non mi è piaciuto moltissimo il gioco Cioè non è terribile Abbiamo giocato molto tanto di peggio Ma giusto effettivamente manca Gary per dire Quindi una missione extra sicuramente farlo Intanto lì ci sono i crab del passato Una missione extra sarà sicuramente farlo tornare normale Le mani 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 Però l'importante onestamente dal mio punto di vista È reterminare il gioco Signora? Basta è un po' molesta Quindi signori Vi ringrazio a tutti per aver seguito anche questa serie Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto Noi ci vediamo al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti